Tre punti per garantirsi quantomeno il vantaggio del fattore campo nel play-out. Con questo spirito il Città di Messina affronta l'ultima gara della stagione regolare, ospitando in un Desper Stadium a porte chiuso un Castrovilla rilanciato verso la conquista del piazzamento play-off. Ai giallorossi servirà una prova di ben altro spessore rispetto a quella fornita una settimana fa a Barcellona contro la già retrocessa Ijea Virtus, ma che ha comunque fruttato un successo fondamentale nella corsa salvezza. Il tecnico Furnari però dovrà fare la conta tra indisponibili, diffidati uomini in non perfette condizioni fisiche. Oltre Costa non ci sarà Nicosia che dopo una settimana in cui si è tentato di recuperarlo è stato fermato dall'esito negativo della risonanza cui si è sottoposto nella giornata di venerdì. Assente anche Di Vincenzo in partenza per impegni scolastici. Non al top Cangemi che si gioca una maglia con Ferraù, mentre restano aperti i ballottaci tra Bombara e De Lucia e tra Galesio e Codagnone. Formazioni quindi tutta da decifrare, ma è probabile che Furnari rinforzi il centrocampo, passando dal 3-4-3 proposto dal Contres Barone. Al 3-5-2, calcio d'inizio alle 15, arbitra l'incontro Gianluca Grasso di Ariano Irpino, coadiuvato da Dario De Cristofaro di Rovereto e Andrea Cravotta di Città di Castello.